Allora papà, la filastroppia poi si dorme, ok? Pronto? Via! Al commissario calabrese, che era lì da qualche mese, hanno chiesto come fare per non farsi più infettare. Lui è caduto giù davvero, ne sapeva proprio zero. Ha esclamato, oh mio Dio, ma dovevo farlo io, sono domande che si fanno, io mi chiedo come stanno. Così il premier si è stizzito e da calci l'ha spedito. In realtà, te lo confesso, meno male si è dimesso. Se ne è andato cotticelli e ci ha messo zuccatelli, che non vuol la mascherina. E così è peggio di prima. Dice che per infettare devi un sacco limonare. Quindi il primo era negato, questo è pure contagiato. Te lo dico, mi dispiace, qui non ce n'è uno capace. Qui sentendo sti cervelli, era meglio balotelli. Con sti bronzi di riace, che padella, qui è l'abbraccio. E la dura verità, siamo in mano a questi qua. E se questo ti impaurisce, dormi bene mio bambino. Che in Italia poi finisce, sempre a taraluce e vino. Che in Italia poi finisce? Che in Italia. Grazie a tutti.